E' finalmente arrivata della Poker la Ducati 1299 Panigale S Anniversario in scala 1 a 4. Kit statico in scatola di montaggio, realizzato in metallo pressofuso di alta qualità e già verniciato. Il kit è facile da costruire e fornito di istruzioni dettagliate. Il modello è composto da oltre 600 parti, costituite da un assortimento di materiali tra cui metallo, gomma e plastica di alta qualità. E' tornata Polisteel, pista slot in scala 1 a 43 Euro Champion Italia vs Germania, sviluppo della pista 2,80 metri. Bel kit, kit statico in scala 1 a 24, MG Metro 6R4 Lombard Rally del 1986. Altro kit statico in scala 1 a 24, sempre MG Metro 6R4 ma Rally di Monte Carlo del 1986. Kit Aleri, kit statico in scala 1 a 48, Junkers Stuka. Tamiya, forcelle per Honda CBR 1000RR in scala 1 a 12. Supporto rotelle carbon 1,5 mm Japan Cup 2020. Mini 4WD, Basic Tune Upstart Set per telaio VS. Rotelle lenticolari nere, 19 mm Japan Cup 2020. AK Interactive, tutti a due componenti.